Ciao a tutti, mi presento, sono Rossana, benvenuti sul mio canale I Tarocchi in Valigia. Questo è il primissimo video che pubblico su YouTube, quindi vi chiedo scusa fin da adesso se non sarò proprio scioltissima nell'esprimermi, però per me è davvero la prima volta, quindi devo prendere confidenza con questo mezzo. Con I Tarocchi ho più confidenza, per fortuna, e quindi ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso. Io vi chiedo se siete capitati su questo video e vi piace quello che dico, come lo dico, vi chiedo di iscrivervi al canale in modo da farlo crescere il più possibile, farmi capire che comunque quello che sto facendo lo sto facendo bene, ok? Come si dice, no? Lo stai facendo bene. Allora, detto questo, come primissimo video voglio partire con la domanda le sue prossime mosse. Io sto pubblicando il video in un periodo di festa, siamo vicini al Natale e magari volete capire se questa persona si farà sentire, vi farà gli auguri, se starete insieme, non lo so, adesso vediamo in base a cosa ci dicono le carte, qual è la situazione di partenza e quali saranno le sue possibili mosse. Io ho messo tre varianti, sono carte di Yogananda, io adoro, veramente. Le trovo proprio belle, belle e espressive. Ho scelto dei colori anche abbastanza natalizi, io vi chiedo di concentrarvi sulla carta che vi ispira di più. Non so dirvi, perché essendo il primo video, se riuscirò a mettere in minutaggio esatto delle varie varianti, vi chiedo veramente scusa, tanto voi magari col ditino andate a cercarvi la variante che avete scelto. Allora, come prima variante, ve la mostro da vicino, abbiamo espansione, questa carta qua. Come seconda variante abbiamo energia, come terza variante abbiamo successo. Beh, penso che abbiate avuto il tempo di istintivamente scegliere la variante che più vi piace, io comincerei dalla prima. Allora, mettiamola qua. Si vede? Sì, prenderò bene le misure. Cominciamo con le energie generali, in modo da capire se sei capitato nella variante giusta. Allora, prima variante, espansione. Sto usando gli oracoli in questo momento per vedere le energie del momento. Espansione. Che energie ci sono tra chi ha scelto la variante numero uno e la persona a cui hanno pensato? Che energie ci sono tra la variante numero uno e la persona a cui hanno pensato? Allora, arrivare al traguardo? Direi che siamo, che qui c'è qualcuno che vuole arrivare a un dunque, mi viene da dire, e anche con una certa velocità. Vediamo ancora con gli oracoli degli angeli, perché ha scelto la variante numero uno, espansione. Che energie ci sono attualmente con la persona a cui stanno pensando? Variante numero uno e la persona a cui stanno pensando. Esprimi il tuo amore, vai avanti e compi un gesto romantico. Allora, prima di esprimermi, le voglio guardare tutte nel loro complesso, anche se già non mezza idea me la sono fatta. Ecco, appunto, un bel matto è caduto. Allora, vediamo, conosce un po' le energie proprio tue e dell'altra persona e le vostre energie in generale, così che io possa farmi un'idea più specifica. Allora, variante numero uno, espansione, le energie di chi ha scelto la variante numero uno. Le energie di chi ha scelto la variante numero uno, espansione. Allora, tu hai l'energia di guarigione, l'energia invece della persona a cui stanno pensando, quelli che hanno scelto la variante numero uno. L'altra persona ha un bel viaggio, è in viaggio per raggiungere questo traguardo. L'energia generali tra voi due, perché ha scelto la variante numero uno e le energie generali che ci sono attualmente. Vediamo un po'. Beh, ragazzi, allora, a me sembra che qui siamo a un buon punto. Così a sensazione mi viene da dire, non so per quale motivo, ma penso che voi che state guardando questo video, avendo scelto anche espansione, avendo l'energia della guarigione, è come se voi veniste fuori da un periodo un po' magari difficile, o comunque... che vi ha un po' provato, mi viene da dire. L'altra persona, in viaggio, quella non sarebbe altro che un otto di bastoni, credo proprio che si voglia muovere verso di voi in questo momento, che sia attivo, che sia più propositivo in questa relazione. Io non so perché, ma ho la sensazione che siate voi in questo momento forse a frenare un po'. Perché la carta che avete scelto, che appunto è espansione, in realtà non è altro che un suggerimento a lasciarsi andare un po' di più, rispetto magari a degli schemi che avete avuto fino adesso, nei quali vi siete un po' chiusi, irrigiditi. E la carta guarigione mi conferma il fatto che probabilmente voi davvero siate a un punto, anche con questa fonte, siate veramente usciti da poco, da un qualcosa che vi ha veramente turbato. Siete guariti, comunque siete già a un ottimo punto. E quindi adesso, secondo me, avete un po' il timore di dover rimettere ancora tutto in discussione, e quindi vi blocca magari un po' di paura. Mentre l'altra persona la vedo bella sul pezzo. Vuole proprio esprimere tutto il suo, quello che prova. Allora, la domanda dell'interattivo. Andiamo alla domanda. Le prossime mosse della persona a cui state pensando. Voi che avete scelto la variante espansione. Che mosse farà questa persona, in questo fantastico in viaggio, e arriverà al traguardo? Vediamo un po', che mosse farà questa persona a breve. Le prossime mosse di questa persona a breve, nei confronti di chi ha scelto la variante espansione, variante numero uno. Le prossime mosse. Un bel cavaliere di spade. Piuttosto deciso. È una regina di bastoni. Beh, ragazzi, voi che guardate il video, secondo me siete davvero delle belle personcine, eh. Un re di coppe. Un due di denari. Questo volevo uscire prima, sto cinque di coppe. Un sette di pentacolo, un imperatore, e un sei di coppe. Che sestino interessante. Allora, partiamo dall'energia di fondo mazzo, questo cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è un'energia molto dinamica, molto attiva, però è travolgente. È un'energia... Qui sta, guarda, sta tagliando di netto una farfalla. È un'energia che è capace anche di ferire, ok? Di fare male. Io qui penso che questa energia del cavaliere di spade sia la vostra di che state guardando il video. perché penso che vi state mettendo molto sulla difensiva voi e che probabilmente andate dritti al punto. Non volete farvi guidare troppo dal sentimento in questo momento della vostra vita con questa persona. Avrete i vostri motivi che secondo me però sono legati a un vostro passato. Perché questo 6 di coppe e questo 5 di coppe sopra, quindi 5-6, mi fanno pensare che voi in realtà state ancora rimpiangendo un qualcosa o rimuginando su un qualcosa del passato e quindi non riuscite ad andare avanti. Questo 2 di pentacoli in centro stesa e questo imperatore mi fanno pensare che venite fuori da una storia di instabilità dove non avevate grandi garanzie da questa persona, da questa relazione. Non c'era la stabilità, non c'era la concretezza o meglio, questa persona ha agito su di voi in un modo un po' arrogante, controllante. Mi sta venendo forte questa sensazione che voi siete guariti da questa relazione proprio perché questa persona vi ha fatto sentire inferiori, quindi voi adesso non vi sembra vero di vedere questa persona che invece si presenta a voi in questo modo così amorevole, così guardate la faccia di questo Reddy Copp è stupendo, è un vecchietto, però non lo so perché ma a me sembra così giovanile, non lo so perché, c'è questo faccino così rassicurante, vi sta offrendo un liquido caldo in questo momento in cui vi sentite così fredde dentro di voi, lui vi sta offrendo questa tazza di tè caldo, sta investendo su di voi in realtà questa persona, mi viene proprio da dire e vorrebbe riuscire ad esprimersi, vorrebbe dirvi i suoi sentimenti, quello che lui prova, è una persona buona, è una persona onesta, leale, che non vi vorrebbe mai fare del male, è una persona che veramente, probabilmente anche la conoscete anche da un po', ok, perché questo sette di pentacoli mi fa pensare che comunque è un po' che lui ha investito in questa relazione, è un po' che lui ha messo dei semi, ok, e sente che adesso è arrivato il momento, è arrivato il momento di esprimersi, probabilmente però non so come potreste reagire voi, con questo cavaliere di spade forse voi non siete state proprio accoglienti ultimamente con questa persona, voi per strategia, voi per difendersi ovviamente da questa sofferenza e e quindi lui è un po' indeciso sul da farsi, lo vedo molto indeciso sul da farsi ma più che altro perché davvero non ha idea di come potreste reagire voi allora le sue prossime mosse secondo me in questo momento sono quelle di parlarvi ok, di venire a comunicare con voi e di vedere che aria tira di vedere che come potreste reagire è morta anche la luce perfetto primo primo video ma sì non ci serve la luce vedete vero sì ok vorrei capire eccovi qua guarda come siete accoglienti con questo due di spade bello alzate proprio le barriere mamma mia ragazzi avete sofferto tanto mi viene proprio da questo esteso ho fortissima questa sensazione che voi avete faticato tanto per raggiungere di nuovo il vostro equilibrio vediamo un po' questa persona cosa farà mamma mia niente allora qua mi viene fuori la vostra energia ecco cioè di che stiamo parlando voi state ancora veramente metabolizzando un dolore fortissimo però siete incuriositi da questa persona perché in realtà questa è una persona che è vicina a voi da un po' secondo me è solo che siete in questa energia qua vedi regina di spade siete diffidenti però il sole vi sta dicendo come questa carta che avete scelto istintivamente lasciati andare lasciati andare non avere paura di bruciarti di nuovo ok perché questo sole in questo mazzo è bellissimo ma ti dà anche la sensazione che questo bambino sia quasi accecato no da questa da questo calore da questa luce improvvisa da questo calore che questo re di coppe vi sta dimostrando e quindi si sente un po' travolta allora rispondendo alla domanda questa persona qualcosa vuole fare e lo vuole fare anche in modo probabilmente molto veloce molto rapido ok prima delle feste qualcosa vi dirà vi aprirà il suo cuore se sono convinta di questa cosa vi aprirà il suo cuore e poi aspetta a voi decidere se lasciarvi o meno scaldare perché io vedo carte molto fredde da parte vostra vedo curiosità vedo sicuramente un un vedere questa persona in modo è come se questa persona nel suo sguardo vi avesse fatto ritrovare guarda quante carte di calore ok io vedo qua tantissime carte di calore voi ne avete bisogno è questo voi ne avete bisogno in questo momento vi state chiudendo ovviamente per una sofferenza del passato vi siete raffreddati tantissimo ma in realtà queste carte mi stanno dicendo che voi avete bisogno di questo calore e quindi accettatelo lui una mossa la farà lui esprimerà il suo sentimento da qui guarda secondo me neanche due settimane si aprirà vi parlerà dei suoi sentimenti se non parla probabilmente esprimi il tuo amore perché magari è anche una persona un po' timida però farà qualcosa per farvelo capire poi aspetta a voi comunque questa è una persona veramente buona non ha intenzione di farvi del male io vi consiglio di lasciarvi travolgere un po' da questo calore perché ne avete bisogno vediamo un po' cosa ci dicono i numeri angelici perché ha scelto la variante espansione la variante numero uno il consiglio che date è che ha scelto la variante numero uno denaro arriveranno soldi fortuna e vincite inaspettate un portale di abbondanza si sta schiudendo per te e per le persone che ami fai tesoro di questa ricchezza te la meriti ok adesso denaro magari o questo è un messaggio proprio che nel caso vi ha voluto buttare lì però secondo me è proprio indice di di un incontro fortunato mi viene da dire con questa persona legge dell'amore la legge dell'amore crea i mondi gli angeli ti consigliano di rallentare e prenderti del tempo per te questo lo stai già facendo da un po' hai bisogno di connetterti con l'amore cosmico universale lasciare che il tuo cuore venga guarito dalle ferite e dalle sofferenze abbandonati all'amore beh ragazze più chiaro di così siete già a un buon punto c'era la regina di bastoni al taglio quindi siete centrate adesso dovete fare il passettino in più farvi scaldare abbandonarvi ancora all'amore ve lo auguro con tutto il cuore vi auguro anche delle feste serene un buon natale e se vi ha fatto piacere iscrivetevi al canale e mettete un like al video io passo alla seconda variante allora seconda variante energia mettiamola qui benvenuta seconda variante vediamo subito appunto con quali energie possiamo descrivere la vostra situazione attuale allora fammi concentrare allora seconda variante che energie abbiamo appunto tu che hai scelto la variante energia che situazione c'è in questo momento tra te è la persona a cui stai pensando tu che hai scelto questa bellissima variante energia perché ti stai facendo un po' di domande sei tu che ti stai facendo tutte queste domande perché andiamo a chiederle le carte perché scusate malanni di stagione ho scelto di fare il primo video proprio in queste fantastiche condizioni allora energia seconda variante vediamo proprio che energie ci sono tra te e la persona a cui stai pensando che energie ci sono tra te e la persona a cui stai pensando dai una possibilità alla tua relazione e lavora sulla coppia quindi qua parliamo di una coppia già bella avviata mi viene da dire che è una coppia già in essere con dei problemi e vi state chiedendo un po' di cose vi state facendo un po' di domande forse bisogna ritrovare un po' di energia è un rapporto forse un po' annoiato logorato dal tempo ci sta ci sta vediamo subito le tue energie così andiamo a inquadrare bene la situazione allora in che energia si trova la persona che ha scelto la seconda variante guarigione come la prima variante eh ragazzi come mai siete tutti così sofferenti andiamo le energie della persona che ti sta accanto alla quale stai pensando perché ha scelto la seconda variante una nuova visione questa persona forse ti ha messo in stand by forse è l'altra persona che si sta facendo un po' di domande allora ah ok forse vediamo un attimo l'energia fra voi due la guida dunque la sensazione da queste prime carte mi viene da dire che qui c'è un rapporto già avviato c'è una relazione c'è un vissuto e in questo momento state attraversando una crisi perché fa così questo cellulare beh state attraversando una crisi la persona a cui state pensando si sta facendo un po' di domande in effetti si si è messa in una posizione probabilmente non dico di chiusura non dico di di silenzio però è una persona che in questo momento è un pochino bloccata nei vostri confronti perché sta cercando di vedere la situazione da un da un altro punto di vista si sente un pochino sacrificato mi viene da dire in questa relazione al momento quindi ci vorrebbe questa energia per ridare un po' di vigore la relazione la guida nelle energie di entrambi è un po' come se steste brancolando un po' nel buio e aveste bisogno di ritrovare quella complicità che al momento la vedo un po' lontana tu che stai guardando il video sei in questa energia di guarigione quindi probabilmente già c'è stato un periodo un po' difficile fra voi due e tu stai cercando di guarire da questa situazione allora vediamo un po' perché ho scelto la variante numero due quali saranno le prossime mosse della persona a cui hanno pensato quelli che hanno scelto la variante numero due quali saranno le prossime mosse di questa persona le prossime mosse della persona a cui stanno pensando quelli che hanno scelto la variante energia beh asso di pentacoli e sette di bastoni eh ragazzi qui c'è stata una forte chiusura mi viene da dire o un qualche evento abbastanza doloroso le prossime mosse allora le prossime mosse qui abbiamo una nove di coppe allora cominciamo col dire che questo asso di pentacoli è una carta bellissima poi questo mazzo è bellissimo cioè in questo mazzo l'asso di pentacoli è meraviglioso allora qui l'energia voglia di dare una possibilità a questa relazione voglia di nutrire di nuovo quello che di bello c'era voglia di di ricominciare in un modo concreto ok di dare un'occasione una possibilità concreta a questa relazione secondo me sono le vostre energie queste io vedo però apriamo la stesa con un tre di spade qui c'è stato un qualcosa che ha un evento che ha veramente ferito uno di voi due e penso si parli di voi perché la guarigione è venuta nelle vostre energie quindi c'è stato un avvenimento che vi ha fatto veramente veramente male non posso escludere non posso escludere che con tutti questi tre ci sia stata forse l'intromissione di una terza persona ora non vedo carte di tradimento assolutamente no ma vedo l'insinuarsi di una terza persona in questa relazione che può essere anche una terza persona non per forza a livello sentimentale ma anche esterno ok alla vostra relazione c'era anche un set di bastoni nel taglio è come se uno di voi due presumibilmente la persona a cui state pensando si è sentita sotto attacco forse si è sentita di doversi difendere da qualcosa di esterno e quindi si è un po' distaccata in questo momento mi viene da dire si è un po' allontanata perché è appesantita questa persona la persona a cui state pensando è una persona concreta io potrei anche dire che è un convivente cioè un re di pentacoli è una storia importante magari c'è anche un matrimonio addirittura comunque questa è una persona molto costruttiva molto pratica molto che si assuma le sue responsabilità che si crea tutto il suo mondo no però in questo momento c'è questo dieci di bastoni è appesantito è appesantito da tante responsabilità mi viene da dire le prossime mosse che farà allora con le stelle e il matto ho la sensazione che questa persona probabilmente farà un colpo di testa nel senso che voi siete abituati a vederlo come una persona molto razionale molto logica però vedo che sta proprio cambiando punto di vista e penso che questa persona farà una mossa che non vi aspettate un qualcosa che non è nella sua indole indaghiamo meglio quali saranno le prossime mosse con le stelle con le stelle che non vi aspettate mi viene proprio da dire così ma vediamo se cosa farà cosa farà questo re di denari qua abbiamo un 2 di pentacoli un asso di spade cosa farà questo re di denari prossimamente le sue prossime mosse allora io credo che questa persona dopo un momento di indecisione darà un taglio a a questa situazione prenderà una decisione molto chiara molto netta credo che io non vedo una chiusura sono onesta non vedo una chiusura però vedo che questa persona si vi chiederà un momento di pausa mi viene proprio da dire questa cosa vi chiederà un momento di pausa perché c'è un terzo elemento ora bisognerebbe indagare però qui secondo me questa persona voglia di rinnovamento di fare un un gesto folle che non ha mai fatto fino adesso perché dove adesso purtroppo sente troppa pesantezza quindi questa possibilità forse siete voi che vorreste darla a questa relazione in modo concreto però purtroppo mi viene da dire che le energie al momento di questa persona sono quelle di di allontanarsi di chiudere e lo dirà anche in modo molto onesto nel senso non farà giri di parole non vi prenderà in giro io purtroppo al momento vedo questo volevo vediamo un attimo un consiglio per chi ha scelto la variante numero due energia dare una possibilità alla tua relazione qui c'è un problema abbastanza importante quindi penso che le prossime masse di questa persona saranno proprio queste però un consiglio per voi che avete scelto la variante numero due rispetto a questa situazione vivere terra quindi tornare un attimo alle radici al al concreto questa carta secondo me vi sta dicendo di non farvi illusioni in questo momento ma di essere molto concrete molto centrate perché avete bisogno di ritornare un attimo in contatto con voi stessi ok di nutrire voi stessi perché questa situazione probabilmente vi ha destabilizzato talmente tanto che vi siete un po' perse ok quindi adesso vi state focalizzando moltissimo su quello che pensa quest'altra persona cosa farà quest'altra persona al momento non c'è una risposta positiva mi dispiace dirlo ma quello che voi dovete fare è rimanere con i piedi ben piantati per terra cercare di essere cercare di concentrarvi su di voi ecco mi viene da dire proprio così di vivere e di nutrire voi stesse sono energie passeggere però non sarebbe neanche corretto forzare questa persona a rimanere in una situazione in cui comunque non riesce si sente sacrificato al momento molte volte bisogna anche lasciare andare ok per poi vedere se la persona poi torna è perché ha capito sa quello che che aveva e quello che potenzialmente può perdere ok so che è una frase banale so che è una cosa difficile poi da mettere in pratica però energia energia mi dice anche trova la l'energia appunto trova la forza di pensare a te stessa nutrire te stessa questa persona deve fare il suo percorso al momento deve uscire da questa condizione di sacrificio di blocco di di indecisione deve prendere la sua strada poi magari fra qualche tempo rifacciamo questo interattivo e vediamo come va deve risolvere questa situazione perché questi tre bisognerebbe capire bisognerebbe capire cosa cosa vogliono dire allora io adesso voglio capire questa persona cosa prova nei vostri confronti voglio fare questa domanda in questo momento la persona a cui stanno pensando quelli che hanno scelto la variante due cosa prova in questo momento la volontà beh c'è la volontà sicuramente di uscire da questa condizione di ritrovare un attimo anche lui un suo equilibrio la volontà comunque data dal re di spade assolutamente sì è una persona decisa farà una scelta molto netta voi potete solo accettarla e concentrarvi su voi stessi io vi auguro comunque un buon Natale delle buone feste serene siete positivi sempre questo sempre perché nella vita insomma ci sono questi cicli questi momenti voi siete positivi perché comunque la terra poi vi ridarà quello che avete seminato dovete entrare nel in voi dovete pensare a voi stessi al vostro baricentro e poi avrete i frutti sicuro io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mettete un like o iscrivetevi al canale passo alla terza e ultima variante e spero di vedervi ancora ciao 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 allora passiamo alla terza variante questa qua è stata bella tosta allora terza variante successo beh già di buona auspicia successo allora che energie abbiamo per questa terza variante vediamo un po' le energie attuali tra te che hai scelto la variante numero 3 del successo e la persona a cui stai pensando che energie ci sono per questa variante al momento che energie ci sono per chi ha scelto la variante numero 3 un aiuto beh questa carta è molto molto vaga nel senso che un aiuto può essere bisogno di cercare un aiuto esterno quindi con gli amici o sentirsi in dovere di fare qualcosa di in dovere o di ora aver voglia comunque di aiutare con le persone che ci stanno attorno o appunto avere necessità di trovare esternamente un aiuto in questo momento che energie ci sono tra chi ha scelto la variante numero 3 è la persona a cui stanno pensando torna a essere libero caspita sei tu variante 3 che vuoi tornare ad essere libero andiamo subito uscio ci dice tutto adesso allora torna a essere libero è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita è un aiuto si fa interessante successo allora vediamo un po' le tue energie per te che hai scelto la variante numero 3 del successo quali sono le tue energie al momento perfetto nessuna cosa bene tu brancoli nel buio vediamo un'altra persona l'energia della persona a cui stanno pensando quelli che hanno scelto la variante numero 3 l'altra persona è in fase di integrazione guarigione con una bella temperanza vediamo le energie generali fra voi due è vuolata la carta del sogno qui si vede i ricordi allora non è proprio chiaro se siete o meno ancora in contatto però questo sogno tra voi due è un po' come se in questo momento ci fosse un po' di silenzio e vi state semplicemente ricordando la vicenda tu brancoli nel buio con questa nessuna cosa non sai assolutamente cosa fare non sai più cosa pensare avresti bisogno veramente di di un aiuto da parte di qualcuno per capire forse quest'altra persona torna a essere libera nel momento di prendere controllo sulla tua vita l'altra persona con questa integrazione che poi non sarebbe alto che la temperanza è una persona che sta cercando l'equilibrio è una persona che sta cercando in modo magari un po' egoista o comunque sta pensando un po' a ritrovare se stesso allora vediamo un po' la prossima mossa della persona a cui stanno pensando coloro che hanno scelto la variante numero 3 del successo quale sarà la sua prossima mossa voi non avete intenzione di fare assolutamente niente asso di pentacoli e 3 di bastoni andiamo un po' la prossima mossa di questa persona nei vostri confronti benissimo 7 di spade prossime mossa di questa persona nei vostri confronti paggio di coppe manti la prossima mossa di questa persona nei vostri confronti 10 di bastoni otto di coppe ragazzi cosa è successo con la prossima mossa di questa persona nei vostri confronti una bella ruota di fortuna è un asso di spade energia di fondo mazzo asso di pentacoli sicuro allora sicuro di confermo che secondo me qui al momento non c'è grande comunicazione tra voi due però c'è molta nostalgia da parte di entrambi qui questa persona secondo me ha fatto si è comportato in modo molto scorretto nei vostri confronti e assolutamente voglia bisogno necessità di far ripartire questa relazione di mettere un punto di chiedervi scusa si è direi pentito del comportamento poco corretto che ha avuto forse ho avuto un momento di come posso dire io non vedo non vedo tradimenti non vedo però vedo una persona che in effetti non è stata molto leale nei vostri confronti con quest'otto di coppe qua sotto però mi viene da dire che questa è stata una persona che ultimamente ha fatto un po' ha avuto un atteggiamento poco limpio poco chiaro a volte c'era a volte non c'era a volte non esprimeva più se stesso non esprimeva più i suoi sentimenti anzi si è allontanato emotivamente da voi con questo otto di coppe come se questa donna si sta tagliando i capelli si sa che il tagliarsi i capelli è simbolo di cambiamento voglia di cambiamento di rinnovamento questa persona probabilmente con questo torno a essere libero è come se avesse avuto un momento di sbandamento che abbia voluto rivendicare un po' la sua libertà però in questo momento questa cosa gli sta pesando tantissimo adesso si è reso conto di quanto gli mancate con quel sei il sogno voi con questo nessuna cosa in questo momento non sapete neanche voi che cosa che cosa volete mi viene da dire forse perché è stata talmente tanta la delusione che non sapete neanche voi cosa pensare e magari state uscendo con gli amici state chiedendo aiuto a qualche amico però vi vedo veramente per persi tornando alla domanda dell'interattivo di oggi questa persona sicuramente si farà sentire perché col paggio di coppe e la ruota di fortuna questa persona vuole proprio rimettere in moto quello che c'è era ok quindi si farà sentire a breve anche mi viene da dire e vorrà fare chiarezza perché comunque questa situazione gli sta pesando parecchio sta male si sente appesantito senza di voi si sente sente di aver sbagliato sente veramente di aver fatto una grande cavolata sente che questa libertà non è poi quello che voleva ok quindi aspetta l'occasione giusta mi viene da dire gli auguri di natale banalmente l'asso di denari è proprio l'occasione giusta no per per chiedervi scusa perché il paggio di coppe è anche questo però io dunque il consiglio qui è che lui mi parte con un sette di spade e seguo un quante di di coppe questa è stata una persona probabilmente un po' infantile parecchio infantile in questa relazione poco concreta ok per quello voi avete quel nessuna cosa è una persona che in effetti non è maturata nel frattempo ok questo ve lo dico non è che il cambio proprio della vita tornerà nelle condizioni alle stesse condizioni con cui se ne è andato mi viene da dire però vuole fare chiarezza vuole spiegarvi vuole ricominciare vuole assolutamente riprendere da dove se si era interrotto un po' un consiglio per voi un consiglio per chi ha scelto la variante numero 3 il successo beh voi forse con questo successo avete proprio voglia di rivincita non so io capace che questa persona torna e voi lo mandate a stendere che vi basti il discorso che lui ammetta i suoi errori vediamo un po' un consiglio per chi ha scelto la variante numero 3 il successo tu sei magico puoi manifestare ciò che vuoi la legge di attrazione la tua bacchetta magica chiedi credi e ricevi non dubitare mai fidati ciecamente che otterrai ciò che desideri perché presto si manifesterà la legge di attrazione successo legge di attrazione allora qui mi sento di darvi un consiglio voglio tirar fuori anche con una di queste carte meravigliose diamo un consiglio per chi ha scelto la variante numero 3 un consiglio in questa situazione il sole dare allora ovviamente ripeto ognuno è libero poi di fare quello che ritiene più giusto e sano per se stesso però queste carte mi stanno un po' dicendo che questa persona si è pentita di essersi comportato in questo modo si è pentito di essere stato un bel po' leggero con voi si è reso conto ma non pensate che sia cambiato tantissimo cioè lui torna per fare chiarezza per mettere le cose in chiaro per far ripartire questo meccanismo però mi viene da dire la ruota di fortuna è una cosa ciclica cioè questa persona torna con le stesse intenzioni un po' immature un po' infantili le carte vi stanno dicendo tu puoi ottenere quello che vuoi in questo momento quindi riflettete bene su quello che volete c'era una canzone di Vinicio che mi piaceva tantissimo attento a ciò che desideri perché potrebbe avverarsi quindi sei in un momento di attrazione magnetica verso l'universo potentissima il sole successo legge di attrazione puoi veramente ottenere quello che vuoi chiediti perché con questa nessuna cosa tu vuoi veramente che questa persona torni questa è la domanda che ti faccio io o forse non hai bisogno di questa persona e tu lo sai ne sei consapevole il sole mi dice che secondo me ti si può aprire veramente un un scenario più bello più chiaro più limpido più caldo più accogliente e tu puoi ottenerlo in questo momento tu puoi attirare tutto quello che vuoi dipende da te con queste carte meravigliose secondo me che devono farti riflettere io ti auguro un buon Natale un sereno Natale delle feste meravigliose cibo sorrisi persone che ti vogliono bene se questo video ti è piaciuto ti chiedo di iscriverti al canale e mettermi un like per farmi crescere e ti aspetto al prossimo video grazie mille ciao